Di nascita ma di passaporto italiano Mogdi ha firmato un contratto biennale nelle prossime ore e dovrebbe essere ufficializzato anche l'arrivo dall'Atalanta di due giovani promesse mentre c'è attesa anche per l'ingaggio e per il ritorno in rosso-azzurro di Paolucci. Si chiama Abdallah Davind Boggi, ha 22 anni, è nato in Selegan ma ha la cittadinanza italiana ed è quel giovane centrale difensivo annunciato da Lomonaco durante la presentazione di Marco Biaggianti e poi ufficializzato nella tarda serata di ieri. Reduce dall'esperienza al Dertona ma cresciuto nelle giovanini del Pescara con cui ha esordito anche in Serie A è un altro tassello per il Catania che sta nascendo. Il ritorno di Marco Biaggianti che sarà il capitano ha dato entusiasmo tanto che la società ha deciso di aprire ai tifosi i cancelli di Torre del Grifo per il primo allenamento della squadra domani pomeriggio alle 17.30 ma sempre domani in mattinata ecco l'antipasto con la presentazione ufficiale che si darà alle Udici alla Sala Bellini del Comune e non nell'Aula Magna e l'Università. Intanto la dirigenza lavora al completamento della Rosa nelle prossime ore saranno ufficializzati gli arrivi dall'Atalanta di Valerio Nava 22 anni lo scorso anno alla Cittadella e del terzino sinistro David Forgax, 21enne ungherese, reduce dalla promozione in Bicolpisa. Sfumato Zibert si lavora all'arrivo di un centrocampista dal nome importante mentre a breve dovrebbe arrivare l'ufficialità del ritorno di Michele Paolucci che ha già vestito il rossazzurro tra il 2008 e il 2009 in Serie A realizzando 7 gol in 26 presenze. Una curiosità nella pagina di Paolucci su Wikipedia è già un giocatore del Catania.